L'analisi dei tabulati telefonici e della cella di Gavoi ha occupato gran parte dell'udienza del processo per l'omicidio di Nadori che si sta svolgendo a Nuoro in corte d'assise. Un processo che vede come imputato Francesco Rocca, marito dalla donna assassinata il 26 marzo del 2008 nella sua casa di Gavoi. Il dentista è considerato dagli inquirenti il presunto mandante. Sul banco dei testimoni oggi si sono seduti due investigatori della squadra mobile di Nuoro che si sono occupati per un certo periodo delle indagini. E' un poliziotto della questione di Cagliari che si è invece occupato dell'esame del traffico telefonico dell'imputato e di altre persone entrate a vario titolo nell'indagine. L'udienza si è aperta con la riproposizione della questione di diritto se si potesse accogliere la richiesta dei genitori di Pierpaolo Contu, il giovane all'epoca dei fatti minorenne condannato a 16 anni in quanto ritenuto autore dell'omicidio, di astenersi dal testimoniare in questo processo. Su fronti opposti sono trovati il PM Danilo Tronci che ritiene che la testimonianza non possa essere resa e i legali di Rocca, Mario Lai e Angelo Manconi che invece vorrebbero sentire la donna almeno in relazione ad alcune testimonianze che ne riferiscono alle dichiarazioni. Alla fine il nodo non è stato sciolto e la Corte si è riservata un ulteriore approfondimento. Quindi si è passati all'esame dei testi. Il sostituto commissario Giovanni Pontis e l'ispettore Fisio Mulargia in servizio presso la questura di Nuoro. I due investigatori hanno ricostruito le varie fasi dell'indagine, le piste seguite, i rapporti intrattenuti con Rocca e la sua famiglia nel corso dell'inchiesta. Quindi si è passati con il sovrintendente Roberto Cavras e della questura di Cagliari ad esaminare il traffico telefonico. Sia quello che risulta dai tabulati, pochi in verità perché le compagnie telefoniche cancellano i dati dopo due anni, e quello della cella di Gavui. Tra i soggetti di cui si è ricostruito il traffico telefonico nell'intervallo di tempo dal 10 al 31 marzo, la vittima di Nadore, il marito Francesco Rocca e la sua ex amante Anna Guiso. Ma anche per Paolo Conto e Stefano Lai, il giovane che ne ha raccolto le confidenze, nonché altri soggetti entrati in loro contatto. Su richiesta dall'avvocato, il poliziotto ha confermato che il traffico telefonico delle celle è stato acquisito dopo il 23 novembre del 2012, data in cui comparve lo scritto anonimo che diede nuova linfa alle indagini. Ci si è soffermati sulle telefonate fatte tra Di Nadore e il marito nella giornata dell'omicidio. Rocca dai tabulati risulta essere a Nuoro alle 19.48. Altro aspetto analizzato è l'intenso traffico telefonico tra Rocca e l'ex amante.